Ragazzi oggi abbiamo qualcosa di grosso di cui parlare quando è stata di Bitcoin e delle criptovalute in generale perché proprio ora stiamo assistendo alla formazione di un modello importante per Bitcoin e questo è un modello molto rialzista a parlare di cosa significa per Bitcoin quindi sarà molto interessante parleremo anche ovviamente di Ethereum parleremo anche di BNB parleremo anche di Cardano e parleremo ovviamente anche del nostro pesce più grosso preferito perché dovete sapere che in realtà ha fatto qualcosa di pazzesco di recente e parleremo anche di alcuni altcoins e di opportunità riguardo gli altcoins in generale quindi bentornati a tutti Mi chiamo Marco portando video riguardo le criptovalute ogni giorno mostrami come fare solo in questo tipo di mercato se siete nuovi assicuratevi di iscrivervi e ti avrà anche la campanella e quindi cominciamo con Bitcoin perché dopo aver visto questa grande discesa ieri abbiamo trovato un supporto intorno ai 53 mila dollari e 700 e in questo momento potete vedere che abbiamo fatto una spinta nella linea arancione fino a 54 mila dollari e 800 e abbiamo ottenuto un rifiuto qui in questa zona ma siamo nel fine settimana quindi domani domenica e i mercati tradizionali i mercati dei futures apriranno e questo sarà estremamente importante perché come sapete il motivo per cui siamo scesi così duramente ieri è stato perché i mercati tradizionali stavano scendendo ed è qui che abbiamo chiuso ieri abbiamo chiuso intorno ai 4 mila dollari e 577 nell'SP500 nei mercati tradizionali e questo è un indicatore molto importante perché se questa domenica apre in rosso e continua a scendere diciamo qua giù bene potete aspettarvi che anche i mercati delle criptovalute continuino a scendere verso il basso ma se apriamo in verde invece ovviamente ci sarà più fiducia nei mercati delle criptovalute e probabilmente lo supereremo e continueremo anche a rialzo ma ecco la cosa con questo grande calo di ieri penso che in realtà i mercati delle criptovalute stiano leggendo abbastanza bene perché di solito quello che vedete quando i mercati tradizionali scendono così duramente di solito quello che vediamo non è solo Bitcoin ma sicuramente tutti quanti gli altri altcoins scendono molto molto più duramente rispetto ad altre monete quindi questo significa solo che ci sono molte opportunità di acquisto Quinton a circa i 51 mila dollari e 500 le persone sono in prima linea in questo e credo ancora che in generale faremo una tendenza a rialzo ora che abbiamo attraversato questa linea blu quindi finché non vedremo un crollo completo come ho detto in precedenza come ho detto nell'ultime due settimane continueremo ad andare a rialzo e questa è la mia opinione non è un consiglio finanziario non scommettete tutti quanti i vostri soldi ovviamente ma è quello che credo e finché i mercati tradizionali scendono è solo un po' e non vanno a precipitare questa è ancora la mia tesi e ora invece nel grafico da 4 ore abbiamo qualcosa di veramente veramente interessante perché potete vedere che stiamo formando un cuneo discendente e ora questo è un modello molto rialzista e quando sta per succedere bene possiamo continuare diciamo all'interno di questo modello proprio in questo modo qui ma il punto più basso è in qualche parte qua giù quindi di solito vanno verso l'alto molto prima di arrivare in questo apice quindi direi che sulle candele da 4 ore qui vedremo un breakout entro i prossimi 2, 3 o 4 giorni e questi modelli sono più rialzisti che bearish di solito quindi ovviamente possono andare in entrambi i modi ma di solito hanno un breakout a rialzo e di solito le eruzioni sono piuttosto esplosive quindi questo è qualcosa a cui prestare attenzione nel grafico da 4 ore se siete un trader di bitcoin e ora invece prima di parlare di un'altra teoria che riguardano gli altcoins e quindi altri altcoins come per esempio bnb e cardano c'è qualcosa di cui voglio parlare perché molti di voi sono entrati nelle locks algo e mi hanno chiesto le mie impostazioni e così via quindi le impostazioni che sto usando per quanto riguarda il locks algo e spiegherò anche come le sto usando quindi se vado a mostrarvi il locks algo qui beh potete vedere che se vado anche nelle impostazioni potete vedere che sono solo impostazioni del segnale di conferma dell'autopilot quindi questa è l'impostazione che sto usando per questo tool e voglio dire sto ancora aspettando un grosso segnale di acquisto sul locks algo perché di solito quello che succede quando il locks algo ci dà segnale di acquisto che di solito porta un'enorme azione sui prezzi perché come sapete che ci ha detto di uscire diverse volte quindi questo ci ha salvato a seconda dove siete usciti prendiamo per esempio il mezzo qui ci ha fatto risparmiare circa un 15% quasi su bitcoin e prima di questo in realtà abbiamo avuto un paio di altri segnali vi spiegherò come lo sto usando e questa è la segnale di acquisto che avevamo qua giù intorno ai 43 mila dollari quindi molte persone hanno comprato a questo segnale di acquisto fino al prossimo segnale di venta fino a 64 mila dollari circa che è qua in alto quindi è stato un segnale molto molto valido e poi quello che avevamo di seguito abbiamo avuto un segnale di acquisto anche a 47 mila o 48 e poi c'è dato un segnale di venta quindi questo segnale di acquisto era in realtà alla pari quindi sareste usciti in parità se avesse comprato a 48 e venuto a questo segnale di venta ma non è così che dovreste usare questo indicatore solo perché state ricevendo un segnale di acquisto non significa che dovreste scommettere tutto perché so che molte persone sono entrate nel Lux Algo e pensano in questo modo e non è corretto perché come sapete il modo in cui sto usando il Lux Algo è che dovete usarlo insieme alla vostra analisi tecnica e nel mio caso i miei livelli appunto di supporto e di resistenza che vi mostrerò anche in questo grafico quindi quello che potete vedere qui è che c'è dato anche un segnale che era un segnale molto buono perché questo ci ha anche fatto risparmiare un 15% a ribasso in questa zona quindi potete entrare proprio qui ma quando questo risorto ci dà un forte segnale di acquisto potete vedere proprio anche verso il basso quando eravamo a circa 30 mila dollari siamo stati in grado di salire da 30 mila dollari fino a 50 mila dollari di nuovo un segnale di acquisto veramente importante ma se mostro anche le linee di supporto e di resistenza ciò che potreste cercare non come consiglio finanziario di nuovo questo è solo come lo sto usando io personalmente quello che potete cercare di acquistare dove abbiamo segnali vicino al supporto e vendere con segnali vicino alla resistenza quindi come potete vedere questo segnale di venta era molto vicino alla resistenza arancione qui e quindi dal momento che abbiamo già resistenza qui questo è veramente un segnale di venta a cui prestare attenzione perché abbiamo appunto questa resistenza e così siamo scesi e poi siamo stati molto vicini alla doppia linea rossa che abbiamo verso il basso e dove abbiamo anche la fascia arancione il che mi porta molta fiducia in questo come buon segnale di acquisto e questo è anche ciò di cui ne stavo parlando quando eravamo effettivamente in queste zone quando abbiamo visto quel segnale di acquisto vi stavo dicendo che siamo proprio al grande supporto quindi questo sarà probabilmente un grande segnale di acquisto e poi siamo stati in grado di cavalcare tutto questo fino al prossimo segnale di venta che potete vedere sulla linea di resistenza sulla fascia appunto arancione che abbiamo qui quindi abbiamo ricevuto questo segnale di venta dopo una corsa enorme verso una grande fascia arancione quindi di nuovo questa sarebbe stata probabilmente una buona opportunità per trarre profitto perché eravamo ad una grande resistenza e quindi quest'altro era un punto di pareggio come vi avevo già mostrato non è successo niente di speciale in queste zone ma poi abbiamo anche questo stato epico passano da 44 mila dollari fino a vediamo un po' siamo saliti verso i 63 o 64 e poi dopo quel tipo di corsa ovviamente più in alto andiamo più è probabile che la correzione sia dietro l'angolo e abbiamo ricevuto poi quel segnale di venta e ora stiamo aspettando il segnale di acquisto quindi usate sempre il lux algo insieme alla vostra analisi tecnica non consideratelo come un segnale verde e quindi potete semplicemente comprare a prescindere mettendo tutti quanti i vostri soldi perché adesso dovete ancora stare molto molto attenti ma è uno strumento comunque di informazione molto potente e infatti se volete ottenere questo potete ottenere un sacco l'accesso appunto a vita per questo indicatore quindi semplicemente pagare una volta e averlo per sempre che è un ottimo affare e mancano solo tre giorni alla scadenza se volete ottenerlo avete il link nella descrizione e anche alcuni dei bonus su Ctrade, FMX e Bybit ma ancora una volta fate attenzione anche con il lux algo non è qualcosa che comprate e poi diventate milionari diciamo e dovete ancora usare un'adeguata gestione del rischio dovete usare una buona analisi tecnica nel complesso e molte persone insomma mi hanno chiesto hanno preso il lux algo e mi hanno chiesto quindi volevo solo spiegare come lo sto usando personalmente e spero che vi sia stata utile questa spiegazione e adesso invece per Ethereum abbiamo trovato un supporto proprio sulla linea arancione a 4000 dollari che è un grande livello di supporto psicologico e certo ora stiamo salendo un po' ma stessa cosa con Ethereum come con qualsiasi altra di queste altre monete potete vedere che BNB, Binance Smart Chain ha trovato resistenza a 600 dollari o 607 dollari proprio sulla linea arancione vedremo se saremo in grado di superare questo livello oppure no e invece per quanto riguarda Cardano abbiamo un livello di supporto a 1,50 dollari quindi questo è sulla fascia arancione che significa che questo è un forte livello di supporto e vedremo se sarà in grado di contare nel prezzo di Cardano oppure no ma la cosa chiave da guardare in questo momento è domani quindi domani sera i mercati tradizionali, i mercati dei futures apriranno e se vediamo appunto che i mercati apriranno in verde qui forse anche verso l'altra linea arancione che abbiamo a 4000 dollari e 640 sui mercati tradizionali probabilmente andrà molto bene anche per tutte quante queste diverse altcoins e anche per Bitcoin in generale e ora il nostro pesce grosso preferito, cosa sta facendo questo pesce grosso? sta accumulando un sacco di Bitcoin su questo pullback che potete vedere ha accumulato 1000 Bitcoin in questa zona ha accumulato 100, 616, 854 e 1000 ancora e come sapete questo pesce grosso tende a trarre profitto dalla resistenza, tende a comprare a grande supporto e non vi sto dicendo che sta guardando il nostro canale ma quello che probabilmente fa è identificare i livelli di supporto e resistenza ed è quello che ha fatto ma quello di cui voglio parlare è che quello che potrei vedere di seguito che in termini di Bitcoin il punto più alto o il punto in cui va più alta quantità di Bitcoin in questo portafoglio era proprio qui che era nel 26 di luglio e potete vedere che aveva circa 116.000 Bitcoin ed il prezzo di Bitcoin era in un punto molto diverso da questo perché il prezzo di Bitcoin era non so circa intorno ai 30.000 dollari comunque sia verso il basso o poteva essere anche intorno diciamo ai 40.000 dollari quindi ha fatto insomma i 10.000, 20.000, i 30.000 e ovviamente i 40.000 dollari quindi la volta precedente che ha avuto un massimo storico in termini di Bitcoin era in realtà inferiore a 40.000 dollari proprio a luglio e in questo momento è un livello molto simile in termini di Bitcoin perché proprio in questo momento ha 115.000 Bitcoin il che è assolutamente folle ma in questo momento il prezzo ovviamente è molto più alto a circa 55.000 dollari quindi questo dimostra che le strategie utilizzate hanno funzionato abbastanza bene qui e quindi quello che voglio dire è prendere profitto dalla resistenza e comprare dal supporto, non è più semplice di così ragazzi e un'altra cosa anche di cui voglio parlarvi è un progetto che ho scoperto di recente ed è un progetto nella quale anche sono coinvolto personalmente questo progetto di cui voglio parlarvi si chiama in realtà Trixivia e tramite la quale anche se non riesco a pronunciare bene il nome sono coinvolto in questo progetto e come sapete sto cercando di entrare in alcuni altcoins più piccoli in questo momento si tratta di play to earn e gaming e prodotti riguardo al metaverse in generale quindi stanno effettuando l'evento su Unicrypte, anche su Pools, Starter XYZ, Engine Starter e Bullperks quindi questo è un innovativo gioco di ruolo MMORPG che sfrutta NFT sulla blockchain ed è ovviamente un play to earn quindi se diamo anche un'occhiata ai partner potete vedere che hanno avuto importanti pubblicazioni hanno parlato scritto di loro e in effetti hanno un articolo anche su Cointelegraph proprio qui ma se andiamo ad alcuni partner potete vedere che sono tutti quanti elencati qui e un partner che non è elencato mentre scorro questo elenco è in realtà BitBoy quindi BitBoy Crypto probabilmente parlerà di questo progetto ad un certo punto e so che hanno anche molti altri youtuber coinvolti anche se forse non stanno parlando del progetto ma hanno investito in questo ed è qualcosa di cui avete ancora un sacco di tempo per entrare se siete interessati ed il gioco play to earn, il gameplay è in realtà sul loro account Twitter e ovviamente se volete dare un'occhiata al primo tipo di filmato del gioco potete farlo sul loro account Twitter e questo è il progetto appunto di Crixivia, questo è il loro account Twitter ufficiale quindi questo qua è quello che ho per voi ragazzi e grazie mille come sempre per la visione di questo video fatemi sapere nell'azione dei commenti se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti